Che cazzo di modalità faccio, raga? Cosa volete fare? Diciamo un knockout. Ci sono i veicoli su invasione che voglio prendere il maestro e portarmelo via. Come hai fatto roba a non farti beccare che avevi gli M13 in macchina? Eh, vabbè, ma doi. Subito. Mica, ma questi, raga, sono dei triardini, eh. Cioè, questi tirano già le flash in predict. Oddio, raga. Cos'è? Ma che arma raccolto? Ah, ma questi sono tre yarder, raga, fidatemi. Si capiva, sapete da cosa? Finché mi si è rotto il pulsante dell'option, raga. Mi vodo. Raga, ma io ho conscienza di tomba. Ma la gente, come cazzo fa a girarti che ho conscienza di tomba? Cominciamo, Robby. Minchia, è la prima parola sensata che ti sento dire a questo momento. Fino a prima erano solo insulti, madonna. Madonna, quante... Figa, ragazzi, hai risposto male a Rino. Mentre questi sono delle belle... Cioè, dei bei traiardoni, eh. A voi sta piacendo, raga. Sapete che a me non sta dispiacendo? Beh, che... No, è divertente. Ma a me, raga, non sta dispiaciando. Scusa, NL, 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 enjoy. Mi vai in free room, un po', raga. Ma c'è lotti coglioni, però. Scusa, ma se io faccio così... Oh, ma questo è un nemico. Minchia, stavo sparando a caso, raga, era veramente... Oh, comunque non ti... Ma come la interrompo la ricarica, ragazzi? È bug. È un bug. No, non puoi interromperla proprio, è impossibile, vero? No, comunque te lo fai. Non lo fai sempre, che non la puoi fare. Non faccio il tempo a sparare. Madonna, da flashato mi ha ucciso, impressionante. Comunque sapete che, secondo me, sarà bello il competitive, ragazzi, sul multi quest'anno. Non so perché, ma c'ho sto presentimento. No, secondo me il time to kill è molto basso, raga. Questo non lo sa. Cioè, è proprio basso. Minchia, tripla, roba, il fatto di nade. Tre camperoidi. Bom, saltati in aria. Ti la faccio saltare con la catoda, è merda. Eh, come devo fare? Stiamo prendendo, bravo. Oh, mamma mia. Stanno andando avanti i passi, ragazzi. Non giuro che stanno andando avanti, ma è arrivata dietro. Le cose due sono già fidanzati qua, sono fidanzati, fanni. Ho tirato un bel uovo, ragazzi, durante il contrattacco. Sono intelligente? Arrivo, è finita, è finita, Moretz. 15 punti e ho finito. Ragazzi, sto camperando, vi giuro, come un animale. Comunque, raga, sapete che sto iniziando a spingere? Mi sta piacendo, arrivo ad aprire a Moretz, raga, tanto ben finito. Tu hai 104 di latenza, Roby, come cazzo è possibile? Come mai, Roby, secondo te, se posso chiedere? Ma dove cazzo sono, raga? Munch, raga, sono delle seghe incredibili, sono morto. Questi sono scarsi, eh. La nuova season di Fortnite, fan. Eh, te l'ho detto che qua fa caldo. Quando la gente spona, non viene pingata dall'Uav subito, vero? A me sembra che, tipo, per qualche secondo non lo pinga. Bello l'M4. Sì, non è male. Ah, è moussiccio. Eh, arrivano da, stanno prendendo Charlie. Scusa, è arrivato. No, ma per forza arriva da, perché Roby, se conquistiamo... Ah, ma Roby gioca come, chissà io. No, vada, stanno andando a prendere questi. Che cazzo di armare, ragazzi, questo? Quella, eh, quella che usavo io, berro. Oddio. Questa sarà scarsa su Warzone, ragazzi. L'avevo raccolta da terra, ho dato due colpi a uno su Warzone, con quella lì, mi ricordo. Raga, ma se nemmeno tutti c'è una mira della madonna. Ok, però è solo io che mi è impressionato. Oddio. Wow, frere. Dove cazzo sono andati i colpi? Ok, questa è la mia sedice, raffica. Eh, lo sto sbloccando. No, ho fatto da per terra uno, io. Ah, dai, ci sono schifiti. Ah, è l'alert, ma vaffanculo. Porco diaz, stavo dicendo, ma che cazzo stanno sbattendo? Non mi ricordavo neanche più di averli messi, gli alert, quelli lì. Dai, ci sono asciuti. Wow. Wow, due volte. Troll. Questo invece è bluntparano, raga. Flashbang, localizzante. Qual è l'arma più forte in assoluto del gioco? Questa si fanno le call, Moretz. Utile. Wow, è troppo sicuro. Inutile farsi le call. Comunque, quando c'è l'hav... Raga, nella kicka stavo sparando con l'arma sotto le palle, ve lo giro. L'arma sotto le palle è tipo motosega. Vabbè, sono quei bug da beta, roba ci sta. Sono motosega, per amore. Dicevo che quando c'è l'hav, raga, giochi solo guardando la minimappa. Sì, vabbè, minchia, lol. Banni off. Banni off è fortissimo, eh. Cioè, l'ho sentito quando è arrivato, assurdo. Eh, Moretz, ragazzi. È un porno star italiano, mio amico, però. Porca ridi, Roby, scusa. Perché... Porca ridi, Bob. Non posso sapere. Non posso ridere? No, non capisco. Cioè... Un porno divo. Lo stealth, raga, non è male comunque, eh. Alla fine l'ho chiamato due volte, ho fatto una kill su due volte che l'ho chiamato. Sì, sì, allora. No, è impossibile, perché rincula verso il basso l'arma. Improponibile. Io non lo vedevo. Raga, ma alcune volte non si vedono i nemici, vero? Sì. Ma io non li carico alcune volte. No, a volte... A volte, raga, proprio sono mimetizzati perfettamente con l'ambiente. Ma non è proprio... Se t'ho flashato, ma tu dimmi. Oh no, perché te lo volevo dire. Oh, ma anche un po'. Io, che ne so. Wow, fria, è facile. Ma c'era veramente un nemico. Adesso poi lo cambiamo, Moretz, proviamo a buildarla bene. Ma non è... Allora, ti dico, in realtà... Ma... 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 Piangere, Paquette, non piangere. 2006, ricordo... Marte, venga... Panturer. Eh? Uranda, sembravo, con questi pantoni... Maranza? Il calcio? Però mica diventa lenta, cioè è molto lenta l'arma. Devi provare l'M4 così, berro. No, Robin, sai che non mi fido troppo delle tue build, Robin? Fai a fare un c***o, oh... Grazie a tutti.